l'inglese per tutti per imparare l'inglese in modo semplice e naturale con i fascicoli e le cassette puoi studiare dove e quando vuoi e con i dettati controlli i tuoi progressi l'inglese per tutti l'unico con in più le cassette dettato in edicola con il primo fascicolo e la prima cassetta in regalo il dizionario tascabile e le schede per viaggiare un corso di lingue di agostini